Ciao, ti do benvenuto al consueto appuntamento del mercoledì con l'analisi del DAX. Andremo chiaramente a fare una previsione, stabilendo quelle che saranno le date per poter andare a cercare indicazioni short o indicazioni long, in questo caso sicuramente indicazioni short, perché siamo quasi arrivati sul picco, se ben ti ricordi, ipotizzato, chiedo scusa, nella settimana precedente. Andremo anche a valutare ovviamente se ci sarà la possibilità di avere una conferma prima di un eventuale ingresso che ci possa permettere un'operazione multi-day che ahimè da ormai più di due mesi è impossibile da mettere in campo. Il tutto ovviamente dopo la sigla e mi raccomando non andare via. Come sempre prima una brevissima comunicazione di servizio, se la prima volta che stai guardando un mio video e quindi una mia analisi, io mi presento, sono Paolo Pesino, sono il fondatore del sito tradingpurtutti.com e da 15 anni, quindi dal 2007 mi occupo di trading, da 8 anni in comunicattività, sono un trader ciclico, quindi esperto in analisi ciclica, tanto da essere l'unico trader in Italia a avere creato un completo indicatore insieme a una formazione per l'analisi ciclica, unico al mondo, un indicatore che non esiste perché è frutto dei miei studi e della mia analisi ciclica ed è quello che vedi sostanzialmente tutti i giorni con le mie analisi. Puoi trovare una sezione formativa con il corso di analisi ciclica e analisi volumetrica che ti invito ovviamente a visitare in autonomia, il canale gratuito Telegram dove cliccando su registri gratis avrai l'accesso ed è un canale bello dinamico e di fatto da professionisti che non per forza lavorano con il mio metodo e poi ho anche un servizio di segnali intraday e andiamo su questo a vedere le performance. Allora le performance, il mese di febbraio si è chiuso con 806 punti sul Nasdaq e 305 punti su il DAX, quindi parliamo di 1100 punti e fischia, ok? Invece per quanto riguarda il mese di marzo, ovviamente è iniziato oggi, abbiamo 60 punti sul DAX, ho preso uno stop di 10 punti questa mattina e un target di 70 punti nel primo pomeriggio. Il progressivo annuale vede 1151 punti sul Nasdaq, 355 punti sul DAX e 35 punti su il Dow Jones, una operazione sola su il Dow. Ma direi di passare subito all'analisi perché è molto interessante per quanto riguarda la giornata di oggi. Se ben ti ricordi, settimana scorsa avevo tracciato questa trendline, la trendline del ciclo 80 giorni che partiva il 30 settembre 2020, 30 ottobre 2022, perdon, e veniva confermata con sostanzialmente la sua nascita nella data del 30 dicembre 2022. Come puoi vedere qui sul pannellino dell'indicatore, l'ultimo ciclo in questo caso selezionato è quello da 80 giorni, quindi nel nostro caso i minimi, perché stiamo guardando i minimi in questo caso, il minimo da 80 e il minimo di 80 creano una trendline, una trendline valida, cosa vuol dire valida? Una trendline calcolata su conteggi ciclici, quindi matematicamente corretta, non frutto della nostra convinzione. Andando poi a inserire in questo caso invece anche il ciclo da 40 giorni, ovviamente cambia la sinusoide ciclica perché è la somma di tutti i cicli, la sinusoide da me è ideata, e quindi sono andate a tracciare anche una trendline del ciclo 40 giorni, quindi unendo questo minimo, ops, non funziona mai sta pennetta quando deve funzionare, close the toolbar, andiamo a riaprirla, ok, quindi andando a unire questo minimo e questo minimo, di conseguenza questo minimo di prezzo è questo, trendline a 40 giorni. Trotta la prima trendline del ciclo a 40 giorni nella data del 16 di febbraio, ma se ricordavate cosa dicevo, intorno al 4 marzo è previsto il picco del ciclo da 80 giorni, che vediamo qua, e anche del ciclo da 40 giorni, che più o meno in questo caso è allineato, e una chiusura sotto la trendline ciclica sarebbe il segnale per un ingresso ribassista. Al momento, bisognerà vedere stasera se non si rimangerà tutto come al solito, il Lely Dax sta generando questo genere di segnali, quindi noi che cosa dobbiamo fare? Per quanto riguarda i prossimi 7 giorni, unica chiaramente opportunità di trading su base statistica, è ribassista e non sicuramente entrare in long, naturalmente dovremmo aspettare una conferma, quindi non entrare alla Banzai, perché entrare alla Banzai non è mai cosa giusta, ok? Da un punto di vista dei supporti, ne abbiamo già uno qui, più che un supporto, qui bisogna trovare una sorta di area, perché veramente è una situazione molto complicata, il mercato è perennemente in laterale, qua è entrato in laterale ad aprire ed è uscito dal laterale a febbraio dell'anno dopo, ok? Quindi trovare un livello è veramente complicato, però se andiamo a vedere livelli un pochettino più giovani, sicuramente il primo campanello era 15.335 come rottura che al momento sembrerebbe essere stata rotta dal mercato, tra l'altro come puoi vedere incrociava perfettamente la trendline cicca, ok? Quindi questo era un livello veramente spaziale, se andrà a chiudere a questo punto possiamo anche spostarlo sotto a questi minimi, quindi sotto ai minimi del 24 febbraio 2023, ecco che secondo me sotto 14.197 future con scadenza marzo 2023, uno short sul DAX è d'obbligo, quanto potrà scendere? Chi lo sa. Sicuramente un primo target è questo, quindi andiamo a prendere l'ultimo swing di bassista, proprio in maniera molto semplice, andiamo già a ipotizzare quello che potrebbe essere un primo target di ribasso, parlando di future parliamo di 14.675, andiamo anche ad aggiungere un'etichetta, se la troviamo da qualche parte, fischio sulla metti 5 e non so dove sono, eccola qui l'ho trovata, la vado solo a mettere un pelo più grande, non ho capito come si fa a mettere nel menu, quindi circa l'area di 14.682, ma noi visto che abbiamo, in questo caso, lo vediamo, una componente ciclica importante perché è l'80 giorni, andiamo a fare un bel calcolo, quindi andiamo a prelevare nei cicli di 80 giorni precedenti, si può vedere come l'indicatore sia molto preciso nell'identificare i movimenti, e cerchiamo di fare una sorta di media, questo era un ciclo di 80 giorni, guardiamo un po' di quanto era sceso, quindi era sceso di questa, più o meno di questa quantità di punti, adesso andiamo ad aggiornarlo con gli altri, qua direi che anche era molto allineato, questo, che però era questo, chiedo scusa, ovviamente non è andato oltre l'indicatore, ok, andiamo a vedere anche nel passato, nel passato, un ciclo di 80 giorni qua, direi perfetto, qui vabbè Covid chiaramente non fa testo, andiamo un po' più indietro, questo erano 80 giorni, quindi andiamo a vedere, direi perfetto, 80 giorni ribassista, direi, andiamo a fare così, tutto sommato preciso, quindi ci possiamo tranquillamente aspettare, come altra area di target, andiamo a fare anche così, almeno abbiamo tutto, ok, 14.440, quindi due target di DAX, sono nell'ordine per un multiday, 14.680 e 14.440, personalmente, la chiusura sotto, 15.158 mi metterò short, il nostro plus sarà molto grande, perché sarà il nostro plus di 600 punti che è esagerato, quindi lo andrei a mettere sopra quest'area, quindi di nuovo posso parlare di 15.330, che saranno 250 punti, che sono comunque un po' pochi per essere un intraday, io direi che un 300 punti sarà la cosa migliore, quindi andrò a posizionarmi qua sopra, grosso modo, e cercherò di raggiungere, per quanto è possibile, ovviamente uno dei due target, se non tutti e due. vado ad aggiungere velocemente la media mobile ciclica, da 73 periodi, e poi ci possiamo salutare, quindi media mobile, che c'è, l'abbiamo detto 73, quindi 73 periodi, guardiamo come siamo posizionati nei confronti, della media mobile ciclica, media mobile che è a questa distanza, lo vediamo, probabilmente girerà un po' il naso all'ingiù, qualora chiaramente il mercato scendesse, e quindi potrebbe essere serenamente la media mobile ciclica, un primo target, area da qua circa 500 punti. Perfetto, con questo è tutto, come sempre, se ti è piaciuta l'analisi, ti chiedo di mettere un like, a te non costa nulla, per me è molto importante, per poter crescere su YouTube, e fare capire l'importanza dell'analisi ciclica, e della vera analisi ciclica, ossia quella non di adatto il grafico ai cicli, che non esiste, ma devo avere uno strumento che mi vada a calcolare, tutti i cicli nel passato, e mi vada poi a estrapolare una media, ma soprattutto me la vada a disegnare, poi quella che sarà la strada da prendere, perché l'analisi ciclica nasce per avere un quadro, fin da subito, su che cosa farà il mercato, non di giorno in giorno andarla a cercare, in questo caso noi come possiamo vedere, abbiamo un'analisi già fatta, fino a marzo del 2024, perfetto, ti aspetto e mi raccomando sui miei canali, qui nella scheda troverai tutte le indicazioni, per poterti collegare con me, lavorare con me, utilizzare il mio sistema, il mio indicatore e quant'altro, o semplicemente vederti iscritto al mio canale Telegram, non dimenticare di iscriverti anche al canale YouTube, e di cliccare sulla campanella, con questo è tutto, ti auguro una buona serata, e ci vediamo mercoledì prossimo per l'aggiornamento col DAX.